Sono certo che la faremo, qui ci sono esponenti importanti del mondo culturale dell'immigrazione diciamo così, un comune capitalista può essere sicuramente il comune dove è eseguito anche il centro studi per scaldare, perché ricordo, diciamo così, al benedicio di tutti che il centro studi è un ente comunale un ente del comune, non è di Antonio Comunale, quindi è un ente del comune e io lavoro gratuitamente per la mia città per restituire un'immagine saluto anche Andrea Manzi che è arrivato in questo momento